quegli altri che sono andati giù sotto dovranno fare qualche qualche altra cazzata sicuramente dopo vengo su a sparecchiare c'è a culo lui non c'è un cazzo da fare perché il suo è più largo cazzo glielo ha sparato fuori bastardone maledetto va bene ha funzionato dai ma sei fazzico non ti preoccupare bravo è arrivato ma è da prima o da seconda già non è facilissima voglio vedere cosa stanno facendo out io oggi proprio zero oggi proprio niente basta a posto è arrivato a posto dai attento a lui perché ma che è pericoloso è che lui non ha regole non c'è Grazie a tutti. E' sempre più pericoloso, devi vedere prima sui tronchi che numeri che ha fatto, ma esagerati, adesso di qua mi salta addosso. Quando vuole ce la fa, non so come ma ce la fa, non ho mai capito, guarda. Guarda quell'altro là, guarda quell'altro che è in terra. Oh i cinghiali, peggio dai cinghiali oh, è un cinghiale, è un cinghialetto. Ma com'è? Ma com'è sgarla oh? Ma dov'è quell'uomo che continua a gridare che oggi non lo è? Non c'è, non lo so perché non c'è. Tutti al campo, tutti al campo lui non c'è oggi. L'hanno cercato tutti i spanti, tutti l'hanno cercato. Ma com'è scavato bene, bravo! Bravo Lele, qua che è sgarlata che la fa giù qua. Dai che dopo, nel pezzo che non piove, sono bagnato, non si è capace di ridare. Se fosse bagnato qua, non cazzo. Ma questi sono nuovi. Questo è nuovo. Sì, vedi qua. No, non è il milanese. Ha fatto...